Siamo qui a manifestare perché noi non vogliamo che ci sia la guerra in Ucraina, ma soprattutto vogliamo il rispetto della Costituzione. Per dire che noi oggi non vogliamo assolutamente che l'Italia invii armi, soldi e militari a favore dell'Ucraina, a favore della guerra. Citta l'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra Antonio Felice di Democrazia Sovrana Popolare Abruzzo nel sit-in promosso in tutto lo stivale davanti alle sedie regionali della RAE. Anche a Pescara, al centro della manifestazione, il disappunto per il messaggio del presidente dell'Ucraina Zelensky, che sarà letto stasera al Festival d'Amadeus, con lo slogan Spegni Sanremo, scendi in piazza contro la guerra felice e precisa. La guerra in Ucraina non c'è dal 24 febbraio dello scorso anno, ma c'è dal 2014, quando un colpo di Stato finanziato dalla Nato e dalla CIA ha deposto il presidente democraticamente eletto e ha installato, ha messo al suo posto un loro dipendente. E le milizie ucraine dal 2014 stanno massacrando le popolazioni russofone del Donbass e della Crimea. Inoltre prosegue, noi non siamo con Putin, siamo contro la guerra. Putin non è il nostro riferimento ideologico, è il riferimento ideologico della destra sovranista di Cartone, quella della Meloni e di Salvini, che fino all'altro ieri andavano dicendo che volevano un'Italia indipendente da quella che era la Nato, da quella che era gli Stati Uniti, da quella che era l'Europa, però nel momento in cui sono andati al governo si sono immediatamente inginocchiati a quelle che sono le direttive di Bruxelles, a quelle che sono le direttive di Washington. Noi riteniamo che la guerra vada fermata ad ogni costo. Vogliamo preservare il festival della canzone? Il messaggio di Zelensky in questo contesto è fuori luogo, affermano i manifestanti. Inoltre Antonio Felice aggiunge come questo sia un conflitto non tra l'Ucraina e la Russia, ma tra la Russia e gli Stati Uniti. E l'Italia deve intavolare delle trattative di pace perché... Noi stiamo spendendo milioni e milioni di euro da inviare all'Ucraina per armi e per finanziare la guerra, mentre noi oggi ci troviamo in una situazione di grave difficoltà. Le pensioni non sono aumentate, le scuole sono fatiscenti, carenti. Ecco, noi diciamo che questi soldi possono essere utilizzati per le opere sociali in questo nostro paese che ne ha bisogno.